Buonasera a tutti e benvenuti, amici di MilanTV, cari abbonati, tifosi rossoneri, è il 28 settembre e siamo a San Siro. È una serata non fredda, ma insomma iniziamo il cammino verso l'autunno più profondo. Milan-Rieca, seconda giornata della fase a gironi, gruppo D dell'Europa League 2017-2018. Tiene palla il Rieca, viene servito adesso Elez che avanza, Elez prova a dare palla in avanti, non c'è fuorigioco, attenzione, non c'è fuorigioco. Grande occasione Rieca che va al tiro, la palla esce, non c'era fuorigioco. Attenzione i croati, attenzione, sono scesi bene, il cross e Ber, ancora pericolosi, ancora pericolosi angolo. Eber, c'ha la Noglu, c'ha la Noglu in scivolata, quindi Borini, Borini giusto, bravo, bravo Borini. Per André Silva, andiamo André, andiamo André, andiamo André, si ferma André, si ferma André, si ferma André, viene via André, viene via André, grandissimo gol di André Silva. André Silva, ma quei bei gol che fa André Silva, André Silva, stai zitto e non esultare quando segna André Silva. André Silva, zitto, 1-0 per noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi, sesto gol di André Silva in Europa League. Val cross, zuta, bravo, Musacchio, no, libero il tiro, grande ciccio, pericolo, pericolo. Eccolo Buonaventura, che mette in mezzo una buona palla, la sua, Bonucci, gol, Musacchio, Musacchio, gol in coppia, Bonucci Musacchio. Bravo Milan, da calcio d'angolo, anche con il Craiova abbiamo fatto gol da calcio d'angolo. Rivediamo il colpo di testa, prima di Cutrone, poi Bonucci, tre tocchi nostri in area di rigore. Bello vedere questa presenza in area. Si riporta in attacco Rieca, attenzione, zuta, zuta davanti a Seabate, che devia. Ancora Misic al tiro, grande ciccio, grande ciccio. Ecco ancora Bonucci, Bonucci ha lo scatto con Acosti. Acosti è solo davanti a Donnarumma. Se l'allunga, se l'allunga e poi la palla entra. Gol di Acosti. Bonucci ha fatto fatica su questa palla. Ancora palla data larga a destra per Vesovic. Finale complesso per il Milan. Calcio di rigore, pazzesco. Calcio di rigore a favore del Rieca. Siamo riusciti a complicarci la vita anche qui. Romagnoli aveva giudicato palla fuori. Ha lasciato andare Czernic e poi ha commesso fallo da dietro. Incredibile ragazzi, una partita chiusa e strachiusa. Ce la siamo andate a complicare. Parte Rieca. Gol. 2-2, pazzesco. Gol di Elez. Pazzesco ragazzi. Siamo riusciti a complicarci la vita in una maniera incredibile. Attenzione. Gol. Gol. Gol di Cutrone. Grande Patrick. Vieni qua che ti abbraccio Patrick. Eccolo Patrick Cutrone. Sfoca tutta la tua gioia. Patrick Cutrone. Ci stavamo disperando. Eravamo appruttiti da questi due gol che avevamo preso. Ma Patrick Cutrone manda a Nanna i gufi. Mandali a Nanna i gufi. Boccuccio e storte. A Nanna. Nasini all'insù. A Nanna. Li vediamo. Borini. Borini. Scattato Cutrone. La gira giusta. Gol. 3-2. 3-2. 3-2. Tutta la rabbia di Patrick. È finita. È finita. Esultiamo tutti. San Siro esultato. La squadra esultato. Esultiamo tutti. Che spavento. Sul 2-0 partita chiusa. Abbiamo regalato due gol. Però. Però. Piuttosto che un 2-0 insulso. Un 3-2 con emozione. Grazie a tutti.